Ciao cari amici, io sono Svitlana, sono cantante lirica e direttore d'orchestra. Sapete dove mi trovo adesso? In Siberia, città Oms dove sono nata io, però fuori dalla città, tre ore di viaggio con la macchina. Diciamo non è freddo adesso, non è molto freddo, meno 15 gradi, è un po' nevica. Mi trovo presso questa casa che il patrone è un bravo signore, fa lavori con legno, tavoli, sedi, letti, molte molte altre cose piccole e grandi. Eccolo la sua casa e vorrei mostrarvi anche le bellezze attorno, seguitemi. Eccolo la sua casa.